Il 20 novembre del 2004 un'altra tragedia dopo quella di 5 anni prima di Via Leggiotto scosse la città di Foggia nel cuore della notte in Via delle Frasche. La morte sorprese 8 persone rimaste intrappolate sotto le macerie causate dal crollo di una palazzina a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. 20 anni dopo la celebrazione dell'anniversario di un'altra pagina triste e dolorosa per la città. Sono passati 20 anni ma ovviamente nella memoria di chi ha vissuto tragicamente quegli eventi ma nella memoria in realtà di tutti i foggiani perché poi in questi casi fortunatamente riusciamo a essere davvero una grande famiglia unita e sono ricordi indelebili. Per questo come amministrazione abbiamo l'onere e l'onore di portare avanti questi riti e queste commemorazioni in onore di queste persone e in onore delle loro famiglie che purtroppo piangono ancora oggi queste scomparse. Stamana il ricordo delle vittime quasi tutte giovanissime tra loro anche bambini tutti appartenenti a due nuclei familiari due le corone deposte la prima sul luogo del crollo l'altra presso la cappella cimiteriale dedicata.